4 di voi, 4 di voi hanno dato la risposta corretta. Un simpatico quiz volto ad accertare la propria abilità sui temi dell'Europa, l'occasione di condividere e scambiarsi idee per scoprire le diverse realtà del territorio, con le sue tante potenzialità. È stata questa la cornice dell'aperitivo europeo promosso dal centro Europe Direct Montagna Veneta, che ha sede presso il Gall Prealpi e Dolomiti, insieme al CSV Treviso Belluno e Comitato d'Intesa, in vista delle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno. La formula che abbiamo voluto utilizzare nasce da una bella esperienza maturata lo scorso anno e si chiama aperitivo europeo. In questo volo vogliamo cercare di rendere più informale il rapporto tra le istituzioni europee e chi sul territorio cerca di promuoverne il valore e i potenziali fruitori, giovani, imprese e cittadini tutti. A fare da sfondo la campagna Usa il tuo voto, promossa da Commissione e Parlamento europeo, per stimolare la cittadinanza attiva europea dei cittadini. Niente di politico in questa iniziativa, ma è assolutamente istituzionale. Vogliamo far comprendere realmente quali sono gli strumenti, le politiche e le opportunità che possono essere colte da questo territorio, indipendentemente dai colori politici. Un'iniziativa che ha saputo coinvolgere anche i giovani. Fra i partecipanti, testimonials dei progetti europei Erasmus Plus e Corpo europeo di solidarietà. È un momento informale, quindi è un momento in cui le persone non si sentono ingabbiate in un momento troppo strutturato, ma lasciamo la libertà alle persone di conoscersi fra di loro e dialogare su quelli che possono essere gli interessi che riguardano anche l'Unione Europea.